Il progetto di un commissariato di polizia a Cantù potrebbe decollare entro due anni. Per noi sarebbe importante, ma sarebbe importantissimo per la comunità perché ci sarebbe un controllo più capillare, soprattutto il controllo del territorio. E soprattutto fornirebbe anche a tutti gli utenti, alla popolazione, dei servizi che adesso sono obbligati a usufruire presso la questura di Como. Quindi devono sempre prendere la macchina, fare file. Invece questa cosa permetterebbe di decentrare anche questi servizi come può essere l'unificio passaporti, come può essere una parte dei permessi di soggiorno e via dicendo. Insomma, è un aiuto alla comunità. Spero che tutta la comunità riesca a capire che è molto importante avere un posto di polizia e soprattutto un commissariato di PS in provincia. Como è molto vasta, è un territorio importantissimo, molto disteso e quindi abbiamo bisogno di avere un altro punto. I tempi noi speriamo in due anni almeno che siano così veloci, però poi nel cammin facendo ci possono essere degli inciampi. Speriamo che non succedano come è successo negli altri anni passati. Novità positive intanto per gli agenti della Polizia di Stato. È stato votato un emendamento per la tutela legale. Una garanzia funzionale per tutti gli agenti che se vengono indagati per motivi di servizio possono richiedere un rimborso sulle spese legali. Abbiamo fatto un salto importante. Non era per la categoria dei poliziotti, era proprio perché è necessario che un poliziotto che va in servizio si senta poi tutelato e in questo caso lo Stato ha voluto tutelarci.